Le prime a finire nel mirino sono le vie in cui da più tempo il manto non viene rinnovato. Nel piano asfaltature ci sono due laterali di via Novellette, ma anche altri interventi puntuali che permetteranno di sistemare buche e dissesti a Rossano Veneto. Due sono le due piccole laterali di via Novellette che abbiamo già asfaltato dopo più di 20 anni dalla realizzazione delle abitazioni. Finalmente vedranno anche la realizzazione dell'illuminazione, quindi le due laterali di via Novellette. Altro luogo dove abbiamo pensato ad una importante illuminazione, che era un luogo completamente buio, è il parcheggio della Palla Brunello. Si parte a breve, l'obiettivo è quello di consegnare il prima possibile le strade ai residenti e a chi le percorre quotidianamente. Asfalteremo anche l'ultimo tratto di quartiere San Rocco nella zona Mottinello e via 2 Giugno e 25 Aprile. Queste due vie erano abbandonate da tantissimo tempo.